Ciao a tutti ragazzi, sono Dermabitroni in questo inizio video, oggi vediamo insieme come crea dei BeatDark nello stile di Ava slash Plaza Questa melodia è nata veramente da una cazzata, perché la melodia principale era veramente stupidissima all'inizio Solo che poi l'ho messa in reverso, l'ho effettata e è venuta fuori una roba super figa Vi faccio sentire l'idea iniziale che era questa sul Mellotron, su un suono super semplice che è il vibes In realtà credo che questa sia la versione della melodia già reversata, infatti originariamente doveva essere tipo così E sto usando praticamente root, not quint e terza di un solo accordo, l'accordo di A sharp minor, quindi l'accordo di tonica di questa scala L'ho flippata perché ovviamente quando andate a mettere le melodie in reverse, se flippate la melodia mantenete la melodia originale Perché se andate a reversare la melodia normale, ovviamente otterrete la melodia in reverse In questo caso invece andate a fare quel classico effetto di pinto reverse In realtà in questo beat c'è una cosa aggiuntiva, ovvero nonostante io abbia reversato la melodia e abbia mantenuto quella originale Poi andando a cioppare la melodia in reverse ho creato un'altra melodia completamente nuova Il secondo suono è un flauto sempre dal melaton, oboe solo, fa queste note In realtà anche questo è stato flippato, era così Dà una bella texture comunque sull'altra melodia Soprattutto in quella reverse poi il pattern che fanno queste note è andato a incastrare perfettamente Gli effetti che ci ho messo sopra sono principalmente un rc20 per sporcare un po' Crystalizer per dare un piccolissimo effetto di reverse di sottofondo ma ovviamente davvero pochissimo Un po' di fabfilter, poi ho semplicemente renderizzato la melodia, ce l'ho registrata, scusa Edison Veniva fuori in questo modo Una cosa che ho fatto è applicare un po' di effetto format shifter che ci dà questo suono un po' più sporco Come potete sentire suona già molto più ritmico e molto più trap rispetto a quella melodia originale che era veramente oscena e orrenda Quindi alla fine è venuto fuori in questo modo Come sempre ho giocato su due ottave diverse quindi abbiamo l'ottava più alta Ho aggiunto un altro po' di suoni sottofondo, un contact Fa questa root note di rinforzo e basta praticamente Ho giocato un po' con il filtro per chiuderlo in alcuni punti se non sbaglio Quindi ad esempio qui si sente un po' di meno Anche all'inizio in realtà l'ho chiuso un po' di più e l'ho fatto sentire solo nel ritornerlo Per rinforzare ovviamente E poi c'abbiamo una seconda melodia che ho scritto con Elite Pianist In realtà si sente davvero poco E quello che sto facendo con Elite Pianist è risuonare le note dell'accordo aggiungendo qualche nota sospesa in più E poi ho aggiunto una drums abbastanza banale Siamo a 167 bpm quindi molto veloci Non c'è bisogno di esagerare con i roll e altre robe Il feeling che ci dà la drums a questo bpm è molto il classico feeling Punto plaza slash drake Ho un clap classico sul terzo beat Con un colpo sull'off beat qui Poi abbiamo uno snare di rinforzo in alcuni punti Per fare questi colpi Poi abbiamo uno pennezzo sul secondo beat Che poi viene rinforzato anche da un altro colpo sul quarto Che viene fuori questo classicissimo ritmo E poi abbiamo una yet quasi tutto dritto Una box che fa da impatto sul primo beat E la cosa più importante ovviamente è il kick Che con questi doppi colpi ci permette di ottenere quel classico feeling a la drake slash plaza Mi è molto importante andare a doppiare il kick soprattutto in questi punti qui Quindi sul quarto beat e anche qui ad esempio sul secondo beat della seconda barra Un'altra cosa che ho fatto che rende questo quarter di kick molto interessante è utilizzare questo colpo qui che finisce sul secondo beat È strano da sentire perché rende la drums un pochettino più statica Però allo stesso modo crea un po' un feeling di rinforzo e anche di sorpresa Perché è difficile sentire un kick messo in quel punto È raro che venga utilizzato In realtà abbiamo già la melodia che sta facendo un ritmo abbastanza simile Se non sbaglio all'inizio della melodia la root note viene doppiata due volte Quindi si sente sul primo beat e sul secondo Quindi già c'è questa specie di ritmo che vado ad enfatizzare con il kick Infine abbiamo il basso Semplicissimo va a seguire la root note principale E il pattern di kick Per il resto non si aggiunge nulla Ho giocato semplicemente sul togliere alcuni elementi della drums in alcuni punti Per creare un feeling di variazione tra strofa e ritornello Il ritornello sarebbe questo qui iniziale da 16 Poi qua c'abbiamo una strofa sempre da 16 che parte subito Qui c'è uno stacco che dura nemmeno una barra perché rientrano subito le drums E poi qui alla fine c'è un altro fake stacco Perché in realtà escono alcuni elementi ma rientra subito il ritornello Quindi non si ferma mai la drums Ho ottenuto quel feeling quasi alla scipa E quindi alla fine viene così È molto molto semplice E niente come potete sentire si ripete qui c'è quel famoso suono di ambiente Che dà un po' più di energia a ritornerlo Anche oggi siamo venuti in questo video Vi ricordo come sempre di lasciare un like e iscrivervi se il video vi è piaciuto In descrizione trovate il link al patron per supportarmi Scaricare i flp, vedere i video aggiuntivi e scaricare i sample pack Pizzar se volete acquistare i miei bit o drum kit e install Non so se ti seguimi per tutti gli aggiornamenti Bella al prossimo video